Sono state settimane veramente belle queste allo spazio fase, com'è andata? Allora sicuramente è andato oltre ogni aspettativa, abbiamo avuto eventi di ogni genere, dagli eventi culturali, eventi sportivi, eventi artistici e quindi abbiamo avuto un riscontro da parte di tutta la popolazione di Alzano ma anche oltre, quindi target molto ampio dalla famiglia, giovani eccetera e sicuramente come ho già detto oltre le aspettative attese. Ci sono state moltissime persone in queste serate, loro si sono divertiti e soprattutto quanti erano? Allora ci sono state migliaia di persone, sono girate durante 18 giorni, riscontro molto positivo, tanti complimenti, tante domande sul futuro e su un futuro che appunto adesso in avanti si alterna un altro festival, eventistica ma non solo, quindi sarà legato a tutto lo sviluppo intero di spazio fase. Sono state settimane veramente bellissime queste allo spazio fase e speriamo in tante nuove iniziative. Ringraziamo Mattia Savoldelli per la partecipazione. Che cosa ne pensate dello spazio fase e di tutte le attività che hanno organizzato? È un bellissimo posto, organizzato molto bene. Molto bello, molto interessante, variegato e direi che è un ottimo modo di passare una serata alternativa. Come le sta sembrando queste serate allo spazio fase? È la prima volta che vengo, comunque è molto carino, c'è la musica, ci sono i drink, c'è tutto. Avete già mangiato qualcosa oppure non ancora? Aspettare degli amici poi iniziamo. Sì sì, direi che è un ottimo posto per trovarci la sera con gli amici e mi trovo bene, ci vengo volentieri. Drink invece come sono? Drink buoni, dovrebbero essere più abbondanti.